Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per concludere la nostra rubrica sui pronostici della serie A Innanzitutto mi scuso se l'altro ieri e ieri non sono riuscito a pubblicare video sul calcio Praticamente non sono riuscito a pubblicare video, purtroppo queste settimane sono molto occupato con le riprese del film Che si stanno per concludere come voi ben sapete, ma non importa ragazzi Passiamo subito alle partite di questa ultima giornata di campionato ragazzi Che si aprirà con Juventus-Verona delle 3 di pomeriggio di sabato 19 e si chiuderà con Lazio-Inter e Sassuolo-Roma di domenica sera Partiamo proprio da Juventus-Verona ragazzi, la partita che darà l'addio a Buffon con la maglia della Juventus e probabilmente in serie A E secondo me la Juventus vincerà ecco Anche perché l'1 è quotata 1,08 ed è una quotazione bassissima Quindi sì, Juventus-Verona 1, il Verona è già retrocesso, la Juventus ha già vinto lo Scudetto Diciamo che l'unica piccola motivazione per la squadra di Allegri è quella di portare a casa i tre punti Per dare un addio abbastanza glorioso al capitano Gianluigi Buffon Passiamo alle partite di domenica C'è Genoa-Torino alle 3 di pomeriggio, credo che non si la filerà di pezza nessuno E per questo io non voglio scommetterci su Anche perché è una partita che si era giocata tra due squadre che non hanno assolutamente nulla da inseguire Nessun obiettivo da inseguire Il Genoa si è salvato già settimane fa Il Torino invece non è riuscito a raggiungere una posizione Europa League Quindi davvero non so cosa può succedere Ma se volete tanto fare un pronostico allora mettete Over 2,5 che è quotata 1,43 Oppure gol entrambe le squadre segnano però sarebbe meglio l'Over 2,5 Ma passiamo alle partite delle 6 di pomeriggio ragazzi Partite che decideranno chi giocherà l'Europa League il prossimo anno E chi resterà in Serie A e ovviamente chi andrà in Serie B Tra Crotone, Chievo, Cagliari, Spal e Udinese ragazzi In serie difficoltà il Crotone e la Spal che stanno entrambe a 35 punti Non mi voglio sbagliare E giocheranno una a Napoli l'altra in casa contro la Sampdoria Ma parliamo di Cagliari-Atalanta prima Ragazzi Cagliari-Atalanta è una partita davvero molto interessante Perché l'Atalanta non ha ancora concluso la sua stagione Ha bisogno di confermare la posizione Europa League E soprattutto ha bisogno di continuare a sperare di raggiungere un sesto posto invece che un settimo Che le permetterebbe di non giocare i preliminari a luglio e ad agosto Ecco prima dell'inizio del campionato Quindi entrambe le squadre giocheranno per vincere Secondo me un gol e entrambe le squadre segnano Sarebbe perfetto Quotato a 1,45 Che è una quotazione abbastanza ragionevole Ragazzi Chievo Benevento ecco Secondo me qui il Chievo vincerà abbastanza facilmente ecco Chievo Benevento assomiglia molto a Spalle Benevento di due settimane fa Ecco non credo che Benevento vada a Verona a vincere Oppure a cercare anche il minimo punto Secondo me il Chievo vincerà e si salverà L'1 è quotato a 1,47 Ecco anche perché comunque la squadra di Dan viene da due vittorie consecutive Contro il Crotone e contro il Bologna Entrambe per 2-1 Ma passiamo a Milan-Fiorentina ecco Partita questa qui valida per un posto in Europa League Il Milan lo ha già confermato però deve confermare il sesto di posto Mentre la Fiorentina invece sembra abbastanza lontana Non soltanto dai tre punti ma anche dallo scavalcare l'Atalanta Comunque Milan-Fiorentina è una partita tra i gol e entrambe le squadre segnano Ecco proprio per questo motivo Proprio perché vogliono vincere entrambe Secondo me cercheranno, faranno di tutto ecco per andare in rete Il gol a entrambe le squadre segnano anche in questo caso è quotato a 1,45 Come per Cagli e Atalanta Napoli-Crotone ragazzi Il Napoli la scorsa settimana ha perso aritmeticamente lo scudetto Grazie al pareggio della Juventus a Roma contro la Roma Al biscotto della Juventus in realtà perché molti mi hanno preso in giro Ah parli proprio tu di biscotto Come se voi pensavate che il Sassuolo sarebbe andato a San Siro a vincere E intanto Roma-Juventus è finita in pareggio Stranissimo, zero ti rimporta Comunque non dissogliamo l'attenzione da Napoli-Crotone ragazzi Secondo me il Napoli vincerà E' vero il Crotone dovrebbe avere più motivazioni rispetto alla squadra di Sarri Però mi sembra davvero molto difficile che Napoli non vinca l'ultima partita del campionato in casa Nonostante le tante motivazioni del Crotone Secondo me la vittoria del Napoli condannerà il Crotone una volta per tutte Mentre dall'altra parte, quindi uno del Napoli quotato a 1,50 Mentre dall'altra parte la Spal non perderà contro la Sampdoria Quindi secondo me, secondo me si salverà Non voglio gufare ovviamente nulla Però secondo me la Spal guadagnerà almeno un punto in casa contro la Sampdoria Quindi 1x, quotata 1,13 Ecco questa non me la voglio rischiare 1x soltanto Anche perché la Sampdoria sulla carta è un pochino più forte della Spal Udinese-Bologna ragazzi l'ultima partita delle serie pomeriggio Anche qui non credo che l'Udinese vada a perdere in casa contro il Bologna Soprattutto dopo la vittoria importantissima Nell'ultima giornata a Verona contro il Verona per 1-0 Grazie al gol di Barak All'Udinese basta un punto in verità All'Udinese basta un punto per confermare la sua posizione in Serie A per il prossimo anno E al Bologna invece non serve assolutamente nulla Magari concludere il campionato senza una sconfitta Quindi secondo me ragazzi Udinese-Bologna finirà in pareggio Io scommetterò sul pareggio secco X, quotato a 4,25 ragazzi Ho azzeccato l'X di Roma-Juventus per ragioni che voi conoscete Spero di azzeccare anche l'X di Udinese-Bologna Ma passiamo alle partite serali Ovvero ai posticipi di questa 38esima giornata Lazio-Inter e Sassuolo-Roma Lazio-Inter ragazzi sapete perfettamente che io non vi dirò il pronostico Semplice Già Anche perché qui vedo quotazioni altissime A parte per il gol entrambe le squadre segnano E credo proprio che finirà in gol entrambe le squadre segnano Però non mi azzardo a dire nulla su questa partita ragazzi Parliamo di Sassuolo-Roma Perché no? Una partita che è completamente inutile Completamente inutile la partita Però io non dico nulla ma ci sono ancora possibilità che la Roma arrivi quarta in classifica Ecco se non riesce a guadagnare quel punto che le permetterebbe di confermare il terzo posto Ecco Quel punto Esattamente quel punto lì Quindi X2 Anzi 2X scusate 2X che è quotato a Anche qui credo è una quotazione molto bassa Adesso ve lo dico E andrò via tutto quanto X2 che è quotato a 1,23 Che comunque non è una quotazione bassissima Ecco ci sta Ci sta per l'X2 della Roma A Reggio Emilia Ma facciamo un quick recap della situazione ragazzi Questi ultimi secondi della nostra rubrica sui pronostici della Serie A Godiamoceli insieme Allora Juventus-Verona 1 secco Genoa-Torino Non ve la giocate Ma se volete giocarvela allora scommettete sull'over 2,5 Oppure sull'over 1,5 Anche una semplice giocata over 1,5 Cagliari-Atalanta Gole entrambe le squadre segnano Chievo-Benevento 1 secco Minam-Fiorentina Gole entrambe le squadre segnano Napoli-Clotone 1 secco Spalle-Sandoria 1-X Udinese-Bologna L'ha detto il computer? No Udinese-Bologna X Lazio-Inter Assolutamente nulla Sassuolo-Roma X2 Quindi ragazzi niente Under 2,5 per questa settimana E probabilmente sarà così fino ad agosto Anzi sicuramente Ragazzi ditemi cosa le pensate di questa rubrica Con la speranza di poterla continuare Ecco il prossimo anno Il prossimo anno a fine agosto Ecco con l'inizio del campionato 2018-2019 Mettete un like se il video vi è piaciuto Ragazzi iscrivetevi al canale Se per caso non l'avete ancora fatto Noi ovviamente ci vediamo nei prossimi video Ciao